buongiorno e buon ferragosto in compagnia di super j vediamo oggi cosa dicono le stelle per questo oroscopo ariete qualche dispiacere dovuti anche a qualche piccolo problema fisico niente di che ma non trascurate la salute e l'attività fisica prendete a bollo le piccole fortune che vi capiteranno anche se non è un periodo molto buono torneranno sempre comode toro telefonate in arrivo buone notizie per posta o per email in serata qualche piccolo disturbo fisico potrebbe mettervi in apprezzione ma passerà in fretta una persona che incontrerete oggi si rivelerà particolarmente tediosa e interessata ad ottenere un piacere gemelli preparatevi ad affrontare situazioni che potrebbero diventare complicate e raccapriccianti soprattutto in amore potreste trovarvi di fronte a situazioni al limite dell'inverosimile non siate gelosi né permalosi ma riflettete bene prima di parlare e di prendere qualsiasi decisione cancro riceverete molti complimenti e questo vi farà contenti tuttavia fate in modo di meritarli anche sul lavoro ci sarà chi è prodigo di complimenti cogliete questo attimo per prendervi le vostre soddisfazioni non rischiare di mandare tutto all'aria leone nettuno favorisce tutto ciò che è lavoro e rapporti commerciali giove però potrebbe mettersi di traverso e provocare intoppi che potrebbero lasciarvi di cattivo umore chi crede di essere immune da piccoli momenti di tristezza oggi dovrà ricredersi vergine la pace del cuore inizierà a farsi sentire nel momento stesso che avrete perdonato di cuore i torti subiti una nuova energia attraversa la vostra vita ma dovrete dedicare più tempo alla vita reale potreste avere a che fare di nuovo con una vostra conoscenza bilancia discreto l'amore per i nati di giovedì potreste aver bisogno comunque della massima concentrazione di tutta la buona volontà per risolvere qualche piccolo problema con il partner fate un passo alla volta scorpione se vivete una storia extra è il caso oggi di chiedersi se vale la pena davvero di continuare e di farlo soprattutto mettendo a rischio il proprio futuro grandi cose potreste fare se solo tentasse di ripulire il cuore da inutili emozioni e sgombrarlo dalle macerie del passato sagittario oggi andrà tutto a gonfie vele un'entrata di denaro vincita o regalo assicurazioni barche chiederanno attenzione giornata in fondo è piuttosto altalenante però l'amore è cieco e in qualche caso miope riconoscere i difetti del partner equivale a evitarne l'insorgere di altri capricorno contrarietà nel lavoro e in casa pazienza cerca di rimanere calmo il passato sarà importante ti sentirai nostalgico e malinconico la vostra gelosia non ha ragione di esistere state ma ripagando chi vi vuole bene e chi desidera per voi solo il meglio acquario fate pulizia tra le vostre amicizie sia virtuali che reali non lasciatevi prendere il cuore da nostalgie inutili o debolezze ciò che farete oggi servirà per un periodo piuttosto lungo della vostra vita pianeti burloni oggi farete fatica a prendere sul serio alcune persone pesci non intrometterti in discussioni in cose che non ti riguardano mantieni un profilo basso e non dare giudizi affrettati oggi vi sentirete particolarmente in forma e loquaci approfittate di questa giornata a 5 stelle per oggi è tutto a domani su super j con l'oroscopo